La solidarietà passa attraverso una festa in maschera organizzata dal Rotaract Club Valle del Metauro che dopo il successo dell'anno scorso, grazie al quale fu possibile una donazione di due defibrillatori, quest'anno fa il bis e dona all'Associazione Sportiva Adriatica di Fano dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti attrezzature sportive per un valore di 700 euro a ragazzi con disabilità visiva che partecipano al campionato nazionale di calcio a 5 Ipovedenti. Alla cerimonia di consegna di 15 felpe tecniche e 15 borsoni logati, avvenuta nella sala della concoria del comune, era presente l'assessore allo sport Caterina Delbianco. I ragazzi del Rotaract avevano in mente una bellissima festa di carnevale e solitamente fanno beneficenza, quindi ho consigliato loro, ho trovato questo aggancio, di fare una donazione alla squadra di calcio a 5 di ragazzi Ipovedenti di Fano e quindi è nata per gioco ed è stata una bellissima emozione questa mattina poter fare questo momento. È stato bello organizzare questo evento? Molto, 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 già diciamo una replica da una festa dell'anno scorso e è stato molto impegnativo perché comunque dietro c'è tanta organizzazione, però grazie ai soci appunto del Rotaract Club è stato possibile insomma realizzare questa bellissima iniziativa e aiutare appunto questi ragazzi, quindi siamo davvero molto, molto contenti di questo bel risultato. È stata una bellissima iniziativa e soprattutto perché si inserisce in un filone che è poco conosciuto ed è poco trattato, quindi lo sport. Lo sport per la disabilità e per i disabili visivi in particolare è un grande strumento di integrazione e ha necessità però di un'organizzazione particolare e di costi purtroppo abbastanza elevati rispetto allo sport dei normodotati, quindi è stata un'iniziativa che abbiamo accolto veramente con gioia, è quasi un'iniziativa miracolosa, ecco perché è la prima volta che succede e speriamo che sia l'inizio poi di una sensibilizzazione anche per altri momenti e per altre iniziative perché lo sport, ripeto, è un momento veramente di integrazione per i nostri ragazzi.